Salve, e bentornati nel TG dell'edicola di Viatici di Monterotondo. Io sono Andrea, spero il vostro giornalaio di fiducia. E questa è la rubrica che ci terrà aggiornati sulle nuove uscite editoriali. Ogni giorno, sulla pagina ufficiale Facebook dell'edicola di Viatici di Monterotondo, troveremo pubblicate tutte le foto di tutte le riviste uscite. Così potremo controllare comodamente dal nostro PC, smartphone o tablet l'uscita che stavamo aspettando. Cosa ci aspetta nel 2014? Ci penserà Paolo Fox a dircelo, con l'almanacco astrologico del 2014, dove il buon Paolino ci anticiperà amore, lavoro, fortuna e benessere. La Repubblica, L'Espresso ed Il Corriere della Sera ci presentano due libri su Nelson Mandela, dove potremo leggere la storia e le parole del leader sudafricano. La Magica Notte degli Elfi, il libro natalizio di Ceronimo Stilton. Prepariamoci ad una valanga di risate, con il primo DVD sui fichi d'India. I fichissimi, il meglio delle esibizioni con e dei fichi d'India. Come in ogni anno, la Panini ci propone l'almanacco illustrato del calcio, dove troveremo la stagione 2013 e 2014, dalla serie A alla serie D. Cronologia della stagione 2012-2013, storia dei campionati e dei club, Champions League, Europa League e tante altre informazioni sul campionato italiano. La Panini ci presenta la raccolta di figurine sull'ultimo capolavoro targato Disney. Frozen, il regno di ghiaccio. Sorrisi e canzoni TV e Donna Moderna ci propongono il CD di Michael Bublé, dove potremmo ascoltare e riascoltare i 15 imperdibili tracce natalizie. Anche per questo episodio è tutto, ma prima di salutarvi voglio augurarvi un buon Natale ed un felice e sereno 2014. Ma cosa fai ancora l'imparato? Corri in edicola, ti stiamo aspettando! Ciao!